Buongiorno. Come stai? Dove vai? Andiamo a scuola prima. Non capito niente. No, è importante a scuola. Ok, andiamo. Ciao. Ciao. Come si chiami? Io mi chiamo Rosetta. Rosetta, Rosetta. Sì, questo è il tuo pulito. È molto buono. Tu hai il lavoro. Grazie mille. Sì, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Buona fortuna. Buona giornata. Ciao. Ciao. Siedi come? Non, 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 non. Siedi, siedi. Come si chiami? Ma mamma. Tu nomi? Ma mamma, ma mamma. Tu nomi ti amo, mi chai tu? Ah, come si chiami? Non, 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 non. Siedi, siedi. Ah, ma mamma. No, non, non. Siedi, siedi. Ehm, non, 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 non. Siedi. Ok, alla mia mamma, ho eccolo, questo è il tuo pulito. È buono. Mi racconta la tua esperienza per questo lavoro. Sì. Mi racconta la tua esperienza per questo lavoro. Sì. Eh, mi racconta la tua esperienza per questo lavoro. La mia famiglia è la mia famiglia. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok, ciao. È molto importante per l'integrazione. Grazie. 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 Grazie.